Buon pomeriggio, ben ritrovati. È il primo appuntamento con l'informazione del TGOG News. In primo piano, ancora una volta, la vertenza che vede contrapposto il Comitato Salute e Vita, che rappresenta i cittadini della Valle dell'Irno, preoccupati dall'inquinamento prodotto in modo particolare dalle fonderie Pisano e lo stabilimento situato nell'area di Fratte. Dopo la riapertura alle attività, il Comitato questa mattina, in una conferenza stampa, ha annunciato le prossime iniziative di protesta. Non sono solo le attività delle fonderie Pisano di Fratte a rimettersi in moto, quanto anche le azioni legali, amministrative e politiche del Comitato Salute e Vita, che annuncia il ricorso ad un intervento ad Opponendum Altar per opporsi al ricorso della famiglia Pisano, nonché una richiesta di annullamento dell'autorizzazione integrata ambientale. Sono solo alcune delle azioni presentate questa mattina da Lorenzo Forte nel corso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione dell'Avvocato Oreste Agosto, che si occuperà del procedimento amministrativo, e dell'Avvocato Fabio Turluccio. Le elezioni ormai sono passate, ha rimarcato Forte la giunta comunale stata nominata, ma di siti in cui trasferire la fabbrica ancora nessuna notizia. E mentre la prossima settimana il Comitato Salute e Vita terrà nella capitale un incontro per avviare anche una causa al Tribunale dei diritti dell'uomo e della Corte Europea, in occasione del primo Consiglio Comunale di Salerno, previsto invece per i primi di luglio, ci sarà sotto il porticato di Palazzo Guerra un presidio utile anche a consegnare un dossier ai neoconsiglieri comunali, chiedendo allo stesso tempo la convocazione di un Consiglio intercomunale. Faremo questa iniziativa ad opponendum al TAR con l'Avvocato Agosto per opporci al ricorso che ha fatto Pisano sulla questione dell'AIA e della via. In più chiederemo l'annullamento dell'AIA alla Regione Campania, perché anche dalla redazione della Task Force dell'ARPAC sono emerse una serie di gravi omissioni, mancano delle relazioni dell'AIA del 2012 che vengono citate nell'AIA dell'Università di Benevento, mancano una serie di monitoraggi, di inquinanti da parte della fonderia che doveva fare dal 2012 in poi e che non ha fatto. Tutto questo emerge però dalle relazioni e dai verbali delle riunioni della Task Force dell'ARPAC che hanno chiesto al Dipartimento di Salerno, ad alcuni dirigenti, di avere queste documentazioni. Ad oggi, da quello che leggiamo qui, non sono state presentate queste relazioni, quindi mancherebbero dall'AIA. Quindi noi chiederemo l'annullamento dell'AIA anche perché il Parco Urbano dell'Irno non è stato chiamato nella conferenza dei servizi nel 2012, eppure essendo un parco costituito dal 2008 e il suo parere era vincolante. Per questo chiederemo al Sindaco di Pellezzano un incontro per sapere quali sono, se vuole fare un esposto, chiederemo di fare un esposto alla Procura su questa vicenda. Venerdì abbiamo l'incontro con gli avvocati a Roma, finalmente gli avvocati che si occupano di diritto internazionale, perché avvieremo la campagna per fare questa causa al Tribunale di Strasburgo dei diritti dell'uomo della Corte Europea. Infine annunciamo che al primo Consiglio Comunale, fra qualche giorno, nei primi di luglio, il Comitato farà un presidio sotto il Comune, consegnerà ai 32 consiglieri il dossier e la richiesta di Consiglio Intercomunale, Salerno, Pellezzano e Baronissi, per discutere della grave situazione. È gravissimo, è vergognoso, è paradossale che il Consiglio Comunale di Salerno non abbia mai discusso di questa situazione. Infine vogliamo anche dire che abbiamo richiesto il tavolo di monitoraggio regionale alla Regione Campania e abbiamo avuto già la risposta del Commissario Vasatuto che è disponibile a convocarlo, salvo gli impegni del Vice Presidente Bonavitacolo, a cui facciamo appello per convocarlo immediatamente, perché gli elementi che sono emersi sono gravissimi. Restiamo nella Valle dell'Irno, nella collinetta situata a Triforonte, proprio alle Fonderie Pisano. Questa mattina i rappresentanti dell'Associazione Salerno 1943, da tempo impegnata in perlustrazione del territorio, alla ricerca di resti risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, hanno ritrovato quello che resta della salma di un soldato tedesco morto durante un conflitto della Seconda Guerra Mondiale. Vediamo. È stato probabilmente colpito a morte, dilaniato da una granata di artiglieria, il soldato tedesco caduto durante la Seconda Guerra Mondiale, i cui resti sono stati rinvenuti questa mattina sulla collina di Salerno, tra Capezzano e Coperchia, dai rappresentanti dell'Associazione Salerno 1943. Il giovane fu coppito a morte sulla collina, che fu teatro di un combattimento durante l'operazione Avalanche. La battaglia per la conquista di questa posizione strategica si svolse in due riprese, tra il 23 e il 25 settembre 1943, a certificare la sua identità il piastrino militare, che è stato ritrovato, al fianco anche arresti di munizionamento e anche della carcassa di una bomba a mano. Sul piastrino del soldato è stampigliata la cifra. Si tratterebbe di un rimpiazzo della Seconda Compagnia del Cinquantesimo Battaglione di Fanteria. Il suo numero di matricola era 5459, il gruppo sanguigno B. Queste le indicazioni contenute nel piastrino. Con questa scoperta sale a sé il numero dei caduti sul campo di battaglia dell'operazione Avalanche, ritrovati dall'Associazione Salerno 1943. L'Associazione ha come scopo ufficiale quello di preservare la memoria degli aviatori, che durante il secondo conflitto mondiale precipitarono in campagna. Subito dopo il ritrovamento, questa mattina, sono stati contattati i carabinieri e la scientifica. Poi sarà allertata anche l'ambasciata tedesca, ma ci vorranno anni prima di risalire all'identità del soldato. Nel frattempo i suoi resti saranno conservati nel cimitero di Cassino. Ringraziamo i rappresentanti dell'Associazione 1943 che ci hanno fornito le immagini che avete visto nel servizio relative al ritrovamento dei resti del soldato tedesco. Parliamo adesso ancora di cronaca. Andiamo a Vibonati, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di furto in abitazione una persona originaria di Napoli. La richiesta è giunta proprio dal proprietario dell'abitazione che aveva notato un soggetto agitarsi all'interno del cortile. L'immediato intervento dei militari ha consentito di ritrovare il ladro mentre cercava di portare via una bicicletta. Parliamo adesso del ballottaggio. Si vota domani in 126 comuni italiani, tra questi uno solo in provincia di Salerno ed è il comune di Battipaglia. Il 19 giugno, dopo sette anni, la città di Battipaglia avrà finalmente un nuovo sindaco che metterà fine alla lunga gestione commissariale del centro della Piana del Sile. Ed ancora una volta però bisognerà attendere l'esito del ballottaggio tra Cecilia Francese e Gerardo Motta. I due candidati, protagonisti dell'opposizione già nell'Aggiunta Santo Mauro dal 2009, sono stati più votati al primo turno tra gli otto candidati sindaci in Lizza il 5 giugno. Ora i cittadini di Battipaglia saranno nuovamente chiamati alle urne per la scelta definitiva. 7.017 con il 23,14% delle preferenze per Cecilia Francese, 9.240 corrispondenti al 30,48% per Gerardo Motta. Oggi giornata di silenzio elettorale. I cittadini di Battipaglia sono poco più di 40.000, gli elettori a 20 diritto al voto potranno recarsi alle urne dalle 7 alle 23, così come già è avvenuto per il primo turno quando l'affluenza è stata di oltre il 75%. A Battipaglia si chiude così una campagna elettorale molto aspra per una città dove da anni non si è riusciti ad avere un'amministrazione comunale stabile. Ad attendere naturalmente l'esito delle urno sono anche i consiglieri comunali perché in base a chi vincerà cambierà il profilo del parlamentino cittadino. Domani al ballottaggio anche grandi città come Napoli, Roma e Milano in tutto 126 comuni italiani dei quali 20 capoluogo di provincia per un totale di 8 milioni e 600 mila elettori. In provincia di Salerno si tornerà a votare solo a Battipaglia. Come è ampiamente noto non ci sarà bisogno del ballottaggio per il comune di Salerno dove però invece c'è bisogno ancora di tempo prima di poter proclamare i consiglieri eletti. La commissione elettorale è ancora al lavoro, slitta dunque la data del primo consiglio comunale dell'era di Vincenzo Napoli, sindaco effettivo. A Cava dei Tirreni invece il consiglio comunale ci sarà, è stato convocato per lunedì alle 17.30 e c'è la sanità tra i punti all'ordine del giorno. Il parlamentino guidato dal sindaco Servalli infatti discuterà della situazione del nuovo piano ospedaliero ed in particolare di quello dell'aspetto che riguarda l'ospedale Santa Maria in Coronata dell'Olmo. La convocazione alle 17.30 tra gli altri argomenti si discuterà anche dello stato di attuazione dell'iter procedurale e della proposta del PUC del comune di Cava dei Tirreni. Ma a proposito di sanità ci sono grosse preoccupazioni anche nell'agronocerino sarnese. Per l'ospedale però Umberto I arrivano primi passi importanti soprattutto in vista dell'estate. Ascoltiamo le interviste. Stiamo raccogliendo delle risposte, prendiamo atto della non possibilità almeno allo Stato di dare risposte pienamente sufficienti rispetto alle esigenze, purtuttavia dobbiamo anche prendere atto di un impegno che la direzione sanitaria e la direzione aziendale sta spendendo rispetto alle vicende dell'Umberto I. Credo che sia obiettivamente difficile che si riesca a voltare effettivamente pagina, drasticamente pagina. Io sono una persona molto pratica, come sa chi mi conosce. Credo che le cose si facciano un passo alla volta. L'importante però è farle, non rinunciare a fare quel passo ogni volta che lo si deve fare. Faremo un grosso investimento, arrivano già i primi 30 medici e 20 infermieri per l'estate per uno sblocco del Tannovere fortemente voluto dalla giunta regionale, per cui cominciamo a recuperare un po' di tempo perduto. Un primo contingente di medici e stiamo sperando che le procedure per arruolare almeno 40-45 infermieri per tutta l'ASL possa essere portate al termine più. Per tutta l'ASL significa i 5 ospedali della valle? Sì, diciamo che questo è il primo contingente. Credo che su Nocera arriveranno una quindicina di infermieri. È una goccia nel mare, però da un punto di vista psicologico, da un punto di vista diciamo un po' di aiuto si riesce a dare, che in effetti l'ospedale di Nocera è un DEA che deve garantire prioritariamente l'urgenza e l'emergenza. Abbiamo molte discipline anche di eccellenza che garantiscono dell'attività di elezione a seconda della priorità stessa della richiesta per tipologia di patologia. Noi nel corso di questi mesi, con un potenziamento del personale ad hoc, sicuramente riusciamo a portare avanti un discorso che possa soddisfare la richiesta. Intanto, spiragli positivi sembrano aprirsi anche per il settore dell'assistenza sociosanitaria e della riabilitazione. Ieri il commento positivo del presidente dell'ANFAS, Salvatore Parisi. Oggi sul futuro del settore abbiamo ascoltato anche Carmen Guarino, il direttore dei centri Rete Solidale, particolarmente ottimista soprattutto dai risvolti che sono legati all'approvazione del DDL dopo di noi. I centri accreditati che si occupano di assistenza a persone con disabilità intravedono finalmente uno spiraio sulla gestione ed erogazione dei fondi pubblici e quanto ha dichiarato dopo anni di grandi difficoltà ieri il presidente dell'ANFAS, Salvatore Parisi, fiducioso sul lavoro che sta portando avanti il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Sulla questione è intervenuta oggi anche il direttore dei centri Rete Solidale, Carmen Guarino, da sempre in prima fila nella battaglia a favore della disabilità per garantire diritti e assistenza e per risolvere concretamente i problemi che attanagliano il settore. Noi siamo in una regione la quale le prestazioni sociali vengono pagate se va bene dopo 365 giorni e se va male ti capita anche di avere un pagamento dopo 600 giorni, quindi è auspicabile che la regione Campania e il governatore in primis faccia, apra proprio un faro su questo settore che è un settore importante e fondamentale della nostra comunità. Parisi è ottimista, lei è ottimista? Io sono ottimista, non ho motivo per non esserlo per la verità, sarò più ottimista quando vedrò proprio come dire che la cosa si concretizzi, però ovviamente tutti noi aspettiamo queste novità dalla regione Campania. La Guarino intravede spiragli positivi anche dall'approvazione in via definitiva del DDL dopo di noi che contiene nuove norme in materia di assistenza alle persone con disabilità grave dopo la morte dei genitori. Questa legge ci serve a segnare il primo passo verso i livelli essenziali di assistenza che noi in Italia non abbiamo, nel nostro paese, nella nostra regione ha messo in campo questa necessità, quella di scrivere i livelli essenziali di assistenza. Questa legge può essere il primo passo, da qualche parte bisogna iniziare, mi fa piacere se si inizi, dalle persone con disabilità ovviamente gravi che rimangono senza il sostegno familiare. Intanto lunedì dalle 10 alle 18 il Salone dei Marmi di Palazzo di Città ospiterà a Salerno il seminario Oltre le Dipendenze Siamo sul Titanic, sostenuto dalla Fondazione Conil Sud e realizzato nell'ambito del progetto Oltre le Dipendenze Entrare nella Rete e Uscire dalle Gabbie. Il progetto è realizzato in partnership dal gruppo Logos come ente capofile, al mentoring USA Italia Onlus, l'ACAT, Famiglie in Gioche e Associazione Il Punto. Il progetto ha come obiettivo di informare e sensibilizzare l'intera comunità alle nuove forme di dipendenza. Nuove emergenze sociali sono spesso sottostimate, scritte in un comunicato, per la loro capacità di indurre problemi personali e relazionali, essendo spesso legati a comportamenti socialmente accettati, più delle volte illeciti o non perseguibili sotto il profilo personale. Una pausa pubblicitaria. Torniamo tra poco. Ed eccoci alla pagina dedicata agli appuntamenti allo spettacolo. Per la prima volta la rassegna tradizionalmente ospitata nel Capologo di Regione Festival del Teatro di Napoli arriva in trasferta in provincia di Salerno. Sono otto le location che ospiteranno appuntamenti del festival diretto dal regista Franco Dragone. La nonna edizione del Napoli Teatro Festival Italia continuerà ad entusiasmare non solo Napoli ma l'intera regione campania fino al prossimo 15 luglio. La nuova direzione artistica affidata a Franco Dragone, regista e direttore teatrale italiano naturalizzato belga, per questa edizione che si allarga al mondo attraverso viaggi in lavori di compagnie provenienti dal Giappone, Medio Oriente, Africa, America Latina e Stati Uniti ha voluto calendarizzare un ricchissimo cartellone di spettacoli sparsi sull'intero territorio campano in location di particolare fascino. È stato il direttore artistico Dragone e regista cult di spettacoli del Cirque du Soleil e Céline Dion questa mattina a Salerno nel corso di una conferenza stampa a raccontare il perché di questa scelta e le location dove farà tappa il festival. Si partirà domani con il debutto al Teatro Verdi di Salerno del veleno del teatro di Rodolf Sirera per la regia di Pino Micol, mentre il 25 e il 26 giugno a Salerno al Teatro Diana sarà protagonista Giuliana De Sio. Ma gli spettacoli toccheranno diverse location della provincia di Salerno come Villa D'Aiala Valva, Agropoli, Vallo della Lucania, San Giovanni Appiro, Pollica e Castellabate. Tutte le cinque province, uscire da Napoli per respirare un po', là dove ci sono già dei teatri in provincia andiamo, là dove non ci sono teatro andiamo nei luoghi speciali e là dove ci sono piccoli borghi e non luoghi andiamo con il bus teatro e questa era una volontà dall'inizio perché io vengo dalla provincia e c'è come una monopolizzazione della cultura qui a Napoli e dunque, no qui a Napoli, qui siamo a Salerno e complimento per Salerno e io sono fantasticamente sorpreso della pulizia tutto e sì dunque la regionalizzazione è una cosa, anche loro hanno diritto al nostro festival, è un obbligo, la campagna potrebbe diventare il più grande distritto culturale d'Europa e con i mezzi che ci hanno al festival io ho forzato ad andare lì, non che ho trovato della resistenza ma si doveva fare perché si trascurava e ancora adesso, oggi quando si parla del festival, anche del team del festival dimentichiamo che c'è la foresta, c'è la provincia e però siamo tutti in provincia adesso e finalmente la prima esperienza sta andando bene. Domani sera spettacolo al Teatro Verdi di Salerno? Sì, primo spettacolo alle 9, questo spettacolo l'ho scelto più per la persona che ha una storia magnifica, a Aquila dopo quello che è successo è caduto il teatro e loro hanno ricostruito il teatro e quando ho saputo questa storia ho detto dobbiamo assolutamente, questo è un'innamorata del teatro, dobbiamo portarlo e così è venuta a Salerno. Dopo la tappa di Salerno c'è Agropoli, Valva, insomma tanti luoghi della provincia proprio come lei diceva per portare il teatro anche fuori dalla città partenopea. Sì, altre cose che facciamo in provincia facciamo le residenti, le residenze perché questo è anche una cosa che far vivere una compagnia per un mese con dei cittadini di un piccolo paese, quello si ricorderanno per tutta la loro vita che il loro paese hanno incontrato dei sudamericani, dei belgi e il mondo. La protezione civile della regione Campania ha reso noto che una nuova perturbazione porterà sulla campagna a precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale, in particolare l'allerta meteo parte dalle 6 di domani mattina fino alle 18 ed è di colore giallo su tutto il territorio per quanto riguarda soprattutto le aree legate al dissesto idrogeologico connesso alla pioggia. Dalla stessa ora scatta anche l'avviso di avverse condizioni meteo, si raccomanda quindi questo è l'avviso che arriva dalla protezione civile a tutte le autorità competenti di porre in essere le misure previste dai piani di protezione civile. Ma ora vediamo proprio nel dettaglio prima la nostra pagina degli appuntamenti e poi le previsioni del tempo. Parte il 24 giugno il Mediterraneo in track ad Eboli, il centro commerciale Lebolle ospiterà l'atteso evento dedicato ai motori fino al 26 giugno. Per il terzo anno consecutivo il più grande evento dei motori del sud Italia si svolgerà all'esterno del centro commerciale di Eboli prevedendo un'area espositiva riservata ad aziende del settore e un'area ricettiva dedicata a conferenze e dimostrazioni commerciali, centinaia di track in esposizione, auto d'epoca, moto, auto, trattori agricoli provenienti da tutta Italia. Non mancheranno le gare di accelerazione, gli stuntman, gli spettacoli, attrazioni straordinarie. Centro commerciale Lebolle, uscita autostradale Eboli. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. E come anticipavo ascoltiamo ora le previsioni del tempo. Aereoporto Salerno Costa d'Amalfi. Attenzione prego, i passeggeri in partenza per Međugorje e Lourdes sono pregati di recarsi presso le migliori agenzie di viaggi per prenotare il loro viaggio di preghiera a tutto compreso. Volo, transfer, hotel, bus, guida, tasse e assicurazione a partire da 290 euro. Vola da Salerno è un'esclusiva Travel Before Tour Operator. in tutte le migliori agenzie di viaggi. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso, con solo qualche breve schiarita. In montagna, nubi e schiarite, con possibili fiovaschi. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite prevalenti, ma con possibili brevi temporali. In montagna, nubi e schiarite, con possibili fiovaschi. Previsioni del tempo. Fornite da 3B Meteo. Eccoci con la nostra informazione sportiva. In primo piano, la Salernitana, per la quale si avvicina il momento verità relativo alla scelta del nuovo allenatore. Nella giornata di lunedì, Lotito e Mezzaroma dovrebbero sciogliere le riserve per l'ingaggio di Simone Inzaghi. Vacanze finite per Simone Inzaghi. Il trainer piacentino, dalla settimana prossima, sarà pienamente operativo dopo essersi concesso 15 giorni di relax a forma intera. Già lunedì, Inzaghi, potrebbe incontrare Claudio Lotito, che ha dato appuntamento anche al DS Fabiani, per cominciare a tracciare le linee guida per la prossima stagione. Lotito tornerà in Francia mercoledì 22 giugno per l'ultima gara del giorno di qualificazione della Nazionale. Dunque, tra lunedì e martedì, il futuro della panchina granata dovrebbe essere noto. Simone Inzaghi, 40 anni, riduce da una breve esperienza con la prima squadra della Lazio, dove approdato a seguito dell'esonero di Pioli, è il candidato principale per la panca granata. La prima idea di Lotito, che da un paio di stagioni pensa a lui come tecnico della Salernitana. Dopo i rinvidi e gli anni precedenti, questa volta invece salvo imprevisti, Inzaghi firmerà il contratto che lo legherà alla Salernitana. Inzaghi si avvarrà della collaborazione di Gigi Genovese, confermato nel ruolo di preparatore dei portieri, e del preparatore atletico Franco Ferrini, che ha fatto parte dello staff di Menichini e che la società granata punta a confermare. Il vice di Inzaghi sarà Massimiliano Farris. Intanto, nei prossimi giorni sarà sciolto anche il nodo relativo alla sede del ritiro precampionato. Nei giorni scorsi, il team manager a Vallone e il segretario De Rose hanno visionato le strutture di Castel di Sangro e Soriano nel Cimino, comune in provincia di Viterbo, dove faranno un nuovo sopralluogo nei prossimi giorni. Restano in piedi anche le ipotesi legate al Trentino e al Piemonte, ma tutto sarà più chiaro la prossima settimana, che sarà soprattutto quella dell'annuncio del nuovo allenatore granata. Finite le vacanze, Simone Inzaghi si prepara, la panchina della Salernitana lo aspetta. Il giovane trainer piacentino sarà il nono allenatore dell'Era Lotito Mezza Roma. lunedì, la fumata bianca. Sul mercato la società Granata è già attiva. Gettate le basi per il riscatto di Oger. Il centrocampista ganese è in prestito dal Catania e lunedì ci sarà il contatto decisivo con il club Etteneo per il riscatto del suo cartellino. Stretta finale per il riscatto di Mose Soger. L'agente del ganese Luigi Sorrentino ha definito l'intesa contrattuale con il DS Fabiani sulla base di un quadriennale a cifre ritoccate verso l'alto rispetto a quelle che gli garantiva il contratto col Catania, società che detiene i diritti sul cartellino del centrocampista classe 96. La Sardinitana, forte della presenza alle sue spalle del Lazio, si è mossa concretamente per trattenere alla Reiki la rivelazione della passata stagione. Oger è stato il centrocampista dal rendimento più elevato, imponendosi strada facendo come un vero e proprio insostituibile della mediana Granata. Pupillo di Lotito, il ganese rientra nei programmi della Sardinitana che punta a farne uno dei punti di forza del suo centrocampo anche per il futuro, sfruttando anche la duttilità del ganese che può giocare sia nel centrocampo a due sia in quello a tre. Oger firmerà un contratto fino al 2020 ma prima Lotito dovrà riscattarlo dal Catania lunedì in agenda un incontro con il club etneo cui dovranno essere corrisposti 800.000 euro. Il Catania ha il ditto di esercitare il controriscatto sbossando 900.000 euro ma non dovrebbe avvalersene dunque Oger si accinge a diventare un calciatore Granata anche se formalmente il suo cartellino potrebbe diventare di proprietà della Lazio. Fabiani ha definito anche l'intesa per l'attaccante Giuseppe Caccavallo ed ha proposto un biennale al terzino destro Simone Ciancio ex Cosenza. Alla Fiorentina sono stati chiesti i giovani Baez e Venuti ma piace anche l'esterno offensivo del Torino a Ramo. Interessa il centrocampista del Modena a Giorico mentre per la fascia sinistra c'è l'idea vitale ex Ternana legata però alle cessioni di Franco e Rossi. In Granata arriveranno anche alcuni calciatori di orbita Lazio per due di loro si profila un ritorno. Ronaldo e Economidis dovrebbero ripartire da Salerno dopo aver già vestito in Granata nella seconda parte della passata stagione. A volte ritornano e, se possibile, per far meglio della prima esperienza. Dalla Lazio la Salernana potrebbe riprendere Ronaldo e Economidis due calciatori che hanno dato un contributo limitato nella seconda parte della passata stagione ma nei quali Lottito crede molto. Ronaldo avrebbe dovuto aiutare la squadra a sviluppare il gioco con più qualità e fluidità ma il regista brasiliano ha dovuto convivere con vari problemi fisici potendo scendere in campo solo in nuove occasioni e saltando l'ultima parte della stagione play-out compresi. Spariggi Salvezza saltati anche da Crissi Economidis, Canguro Scuola Lazio che non ha resistito al fascino della doppia amichevole tra la sua nazione e la Grecia lasciando Menichini senza un'alternativa a zitto sulla corsia sinistra per le due sfide con Lanciano. Il calciatore però è stato perdonato da Lottito che vorrebbe riproporlo in Granata forte anche del fatto che ritroverebbe Simone Inzaghi già suo allenatore nella primavera bianco-celeste. Due ritorni potrebbero presto materializzarsi all'ombra della Rechi Ronaldo deve trovare continuità di rendimento e per farlo deve evitare i contrattempi fisici che ne hanno fin qui minato il cammino. Economidis invece deve compiere il definitivo salto di qualità anche dal punto di vista mentale ed una seconda chance a Salerno sarebbe per entrambi importantissima. Dalla Lazio poi potrebbero arrivare anche altri elementi in particolare i giovani della primavera che Inzaghi ha già allenato. L'attaccante Palombi, il centrocampista Murge ed il terzino Germoni sono i nomi più in vista. Occhio anche a quei calciatori che hanno già maturato delle esperienze in cadetteria come Crecco e Filippini del resto alla Zoritana servono gli andere e se si vorrà dare un segnale di discontinuità rispetto al recente passato sarà opportuno cominciare a reclutarli senza indugio. La pallacanestro tra poco dopo una breve interruzione pubblicitaria. Restate con noi. Chiudiamo la nostra informazione con il basket smaltita la delusione per l'eliminazione da playoff promozione la Givova Scafati comincia a programmare il futuro. Patron Longobardi ha annunciato il suo disimpegno a livello dirigenziale ma garantirà comunque un contributo economico. Sul fronte tecnico invece si profila la conferma di Giovanni Perdichizzi. L'allenatore siciliano vuole riprovare nella prossima stagione l'assalto alla Serie A1 e ha già dato la sua disponibilità a restare alla guida della formazione scafatese. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca e successivamente si comincerà ad operare sul mercato per allestire un roster competitivo. E' tutto. Termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand. Grazie per aver guardato il nostro canale.